Dio Padre ha tanti sogni su di noi, ma noi lo deludiamo quando ci allontaniamo da Lui per inseguire fantasie, falsi idoli, mondanità, quando cerchiamo l'amore da altre parti e non il suo, e piange per la nostra infedeltà, anche se ci attende sempre. Lo ha sottolineato Papa Francesco nella Messa del Mattino celebrata a Casa Santa Marta, commentando il passo del Libro dell'Esodo, inserito nella prima lettura, nel quale il Signore esprime tutta la sua delusione a Mosè per l'infedeltà del suo popolo, che si è fatto il vitello d'oro e lo adora. Un passo che, secondo il Pontefice, andrebbe intitolato il sogno e le delusioni di Dio. Il popolo si è dimenticato del Dio che lo ha creato e fatto crescere, perché non è soddisfatto del Signore, dell'amore fedele. Il suo cuore è sempre tentato dall'infedeltà, mentre Dio ha un cuore di padre, tenero, e piange per noi. Chiediamoci anche noi, ha aggiunto il Papa, Dio piange per me? Dio è deluso di me? Mi sono allontanato dal Signore? Quanti idoli ho che non sono capaci di togliermi d'adosso, che mi schiavizzano? Quell'idolatria che abbiamo dentro. E Dio piange per me? Pensiamo oggi a questa delusione di Dio, che ci ha fatto per l'amore e noi andiamo a cercare amore, benessere, passarla bene in altre parti e non l'amore di lui. ci allontaniamo di questo Dio che ci ha elevati. E questo è un pensiero di quaresima, ci farà bene. E questo farlo tutti i giorni, un piccolo esame di coscienza. Signore, tu hai avuto tanti sogni su di me. Io so che mi sono allontanato, ma dimmi dove, come, per tornare. E la sorpresa sarà che lui sempre ci aspetta, come il padre del figlio del prodigo che lo vide venire da lontano, perché lo aspettava. Grazie. 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 Grazie.